Prima di giudicare un qualcosa bisognerebbe leggerla, perché se l'avessero letta non trovano un punto, un articolo, un comma in cui si mette in discussione l'unitarietà del Paese che viene ribadita proprio a livello dell'articolo 1. È una riforma che mette in condizione tutte le regioni di poter correre, mi auguro che tutti partecipino a questa corsa e quindi che sia veramente un Paese ad alta velocità. Grazie.